Signori come avete letto dal titolo Claudio è qui con noi quindi può venire anche a salutare Ciao bra No vede se metti il video mi cazzo No serio Ok ok Registriamo e basta E' storta Gesù Bambino Niero E' uguale identica prima dai Bella ragazzi bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video In compagnia di Noxer Ciao raga bella Ciao raga giorno di paga E' perchè signori potete sapere che io ho molti più iscritti di Federico Marconi E ovviamente sto dentro di WeMove E lui visto che ha un po' di complessi di inferiorità mi ha fregato il braccialetto Quindi danno e poi ritorna al suo proprietario originale Ma perchè posso farti una domanda? Ma tu hai tutti questi iscritti e perchè fai 100 visualizzazioni al titolo? Comunque siamo qui con la Whisper Challenge E' la seconda volta che la porto sul canale e la mia volta l'avevo portata con mio cugino Oggi invece la porto con Noxer che è nettamente più importante Oh il sheer shit the fans are real Oh ora poi c'è dei metter video dei nigga che fanno In realtà esatto Non mi è conosciuto Esatto Però vabbè Andiamo avanti Allora Penso che tutti sappiate come funziona questa challenge Ovvero una...quante volte a testa? 5 frate a testa Di fila o alternati? Di fila che fa più figo Più figo Quindi allora facciamo...io metto le cuffie Lei mette la musica a palla Mi dice una frase che io devo cercare di capire Quanti tentativi ho? Infiniti 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 Questa cosa essenzialmente... Però mi devi mettere la canzone che sei tu Ok Ok No questa Ok signori La prima frase è... Ora la sentite perché voi la sentite più no I'm blue da poti da pota No vabbè Eeeh subito Una nota Il primo tentativo mazza sei in grande Allora Alla fine faremo che chi ha azzeccato il più con meno tentativi vince Ok sono solo zero Ok Allora Dai prova Non si riesce a un calcio Prova Zero alla barba Alla macchina Alla mamma Zero alla macchia in testa E questo E si un giracchia Ok forse no Ti arrendi? Si La frase era Zero alla maglia di Zlatan ma è alto quanto verrati Ah è vero Justice C'ha la maglietta di Zlatan ma è alto quanto verrati Allora Questa è una frase storica Questa è una frase storica per tutto YouTube Italia Hai capito cosa ho detto? Hai detto questa è una frase storica? E però ho capito più il calcio Ok Ok Sexy porco il papa Ma che cosa ti l'hai detto? Ma che cosa ti l'hai detto? Ma che no scusa Ok dai continuiamo Ok Ah cavolo Ah cavolo Oh Hai la mano occupata Ah cavolo Ah cavolo Ah cavolo Ma la fa un culo Dai Ma che cosa è? Dai 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 Che ha senso Allora Snoopy Bello Perché è come un dama Ma è piccolo Ah qualcuno è bello Perché comunque è Ma è piccolo Ci sta Vai 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 Mi la dai buona No No Dai È un componente della tua famiglia Del tuo numero familiare Snoopy È bello È poco figo Però è piccolo No Perché è piccolo No Ed è piccolo No Snoopy è bello Perché è Ma è Ah perché è grosso Ma è piccolo Perché è un dama È come un dama Ma piccolo Mi è topla Non sento niente Guardate quanto No perché poi da casa Non sento niente Esattamente È figo Quando urla Perché la vostra Non sento niente No no Allora Adesso dirò una Sì non si sente Adesso è una cosa poco felice per lei Allora Carlotta Carlotta Non ha tette Higuain Che so C'entra Higuain Non ha tette Ripeti È Non ha tette Non resiste È un'agoniva È triste Non ha tette Non ha tette Non ha tette Non ha tette Mi ha insultato? No Cioè quale parola fa? Tette Seconda frase Seconda frase Che cosa è incredibile Allora Sto pensando Ci stai pensando Il mio computer è una merda Il mio computer è una merda Bravissima Questa ce l'aveva un cazzo Eh Guardate Il resto È diventato un cazzo Mai importabile Signore Preferisci Parla più piano Che sento Che azzurli Cosa Che cazzo urli Preferisci Il blu con i capelli raccolti O il blu Preferisci La Fanta o la Coca Cola Blur Blur o me la godo Ma che cazzo Perché dobbiamo creare Gli litigi sul mio canale O la Coca Cola con la cannuccia Corta corta Preferisci Blur o la Coca Cola con la cannuccia No Preferisci la cannuccia Le Blur Semmai Preferisci No Ah Preferisci Blur Perché i capelli lunghi e corti Eeeh Corti era molto più figlio Quante frasi stiamo Ok Stiamo alla terza Devo fare la quarta No devi fare la terza Non ti incazzare Machingu è rosa Eeeh Eeeh Non è che stasera Machingu è rosa Mangi qualcosa Bellissima questa Machingu è rosa E' una cosa brutta No è un dato di fatto Machingu è rosa Piccinine Cazzo dove cazzo l'ha preso piccine Eeeh Machingu è rosa Preferisci più qualcosa Complicata questa Machingu è rosa Mangi pure qualcosa Machingu è rosa Butti qualcosa Machingu è rosa Mangi la pasta con le cozze Machingu è rosa Scandisci Machingu è rosa C'entra Dragon Ball Si Machingu è rosa Aaaaaaaaa Si Che scelte Si Il video giunge a termine Chi ha vinto lo decidete voi A questo punto Consulto nei commenti Poteteci dietro due hashtag Hashtag Team Fede E hashtag Lo detto Hashtag Team Noxer 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 si scrive con l'h N O X H E Ok Voi hai fatto l'impressione Va benissimo Ah beh ci devo dire che non siamo fidanzati Anche perché ho fatto il facca con la mia ragazza No io sono fidanzata per fatti mia L'ho fidanzato per fatti voi Per questo quando ci chiedono Ma siete fidanzati La risposta è sì Non ce l'hanno mai chiesto Io sono fidanzato Non ce l'hanno mai chiesto La batteria della sua propria è molto scrausa E quindi si è scaricata mentre facciamo l'outro Che dire Ovviamente come stavo dicendo prima Se il video vi è piaciuto lasciate un like Ehm No Passate qui sotto in descrizione Due like Per il suo canale Per il suo canale E per i miei social Su tutti i facebook Instagram e Telegram Noi ci becchiamo con i prossimi video Bene Guarda Stefani tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti